ciao a tutti ragazzi come va come sempre qui agonista benvenuti un nuovo video di pokémon go e oggi come a titolo parliamo della tier list della lega mega sono cambiati moveset sono cambiati pokemon sono cambiati team abbiamo giocato questa settimana abbiamo capito un di cose ero insieme al signor logan mac nazionale che ti invito a seguire sul canale viola fa sempre live è uno degli streamer più seguiti e tra l'altro è entrato il leader mondiale di pokémon go e con il signor shadow uno dei nostri coach di pokestop dove ti invito a salire se vuoi parlare di pokémon go se vuoi avere qualcuno che ti segue durante le lotte e imparare meglio a giocare detto questo anche lui ovviamente il leader mondiale ti invito ovviamente iscriviti al gruppo telega dove siamo in più di 400 ovviamente ti rispondiamo sei domande ti mettiamo codice amicizia e tutto questo tipo di cose immagine che hai aperto il video perché vuoi vedere quali pokémon utilizzare e come all'interno di pokémon go per quanto riguarda la lotte go in questo video ho fatto un riassunto veloce di quello che abbiamo parlato in tre ore di live se vuoi vederti il video completo fammelo sapere nei commenti scarico la live e ve lo ripubblico qui sul tubo sarai super contento di farlo perché oltre a me a parlare in camera ci saranno i due ragazzi che ho precedentemente citato io ti ringrazio però se lascia un like un commento per il lavoro perché lavoro arriva in live e vi monto il video e cerco di portarlo subito il giorno dopo raga grazie mille veramente se lascio il like un commento ciao a tutti i ragazzi e bella lì scusate se non c'è tanto montaggio ma è lunedì notte ma comunque vi porto il video dagli bella ragazzi partiamo subito parlando di trevenant che è uno dei pokémon che ci ha accompagnato durante l'ultima season che adesso hanno aumentato il suo danno con se nel bomba ma hanno anche aumentato l'energia che serve per caricarlo e quindi hanno costruito un pokémon più lento che va a interfacciarsi con degli altri pokémon che gli possono dare fastidio e come avete visto dall'inizio della lega mega lo abbiamo visto di meno c'è molto di meno come pokémon erba ma non temete c'è un nuovo pokémon erba che potrebbe prendere il suo posto io sono molto molto contento di questo ne parleremo successivamente warren rimane in a più in accompagnamento a trevenant perché poi parleremo piano piano svelandovi gli altri pokémon che abbiamo messo nella lista perché lui è sempre lì presente l'hanno anche baffato quindi lo hanno di nuovo aumentato già lo lancia e di nuovo warren che conoscevamo e è comunque un player da tenere d'occhio all'interno di questa coppa ex air è il nuovo over cam della coppa il primo s che abbiamo qui che ovviamente accompagna con una pacca sulla spalla registri che rimane il nostro trs per eccellenza qui nella zona quags anche con un moveset pantano bomba e ovviamente la mossa roccia pietrataglio da veramente fastidio anche ai volante quello che non riuscirà a fare swampert lo può fare quags air ed è dunque ovviamente in trs perché sta venendo veramente over utilizzato non possibile non citare mediciam un pokémon veramente versatile che con moveset anch'essi versatili continua a rimanere al top del gioco grande stata discussione in chat per capire se fossi in s più o in s alla fine noi abbiamo deciso di mettere lui in s in favore di un altro pokémon che a breve vedrete in s più che secondo noi meritava di più e poi vi cercherò di spiegare anche perché stanfisk di gala raga rimane ovviamente bloccato in a più a moveset troppo top per scendere e rimane sempre una top core da tenere come safe swap o comunque da gestire arriva anche il suo cugino dato che trevenant lo stiamo vedendo molto di meno attualmente all'interno della lega stiamo vedendo molti più water e altre situazioni ovviamente ricordiamo che in pantano bomba è stato aumentato il suo attacco dunque ovviamente anche lui che lo utilizza è stato aumentato in posizione scrafti che è sempre alto in classifica rimane giù perché comunque i volanti sono rimasti e anche le coperture di altri pokémon che ci sono se lo mangiano ci sono molti più lotta adesso nel meta e quindi lui rimane lì dov'è piazzato lì anche se secondo me è un buon leader per entrare in partita swampert anche lui rimane un top core bel safe swap ottimo player soprattutto shadow ragazzi fa i buchi come lo scolapasta quindi io lo consiglio a manetta ma se cercate un acqua top sicuramente l'anturn fa il caso vostro che ripeto ora dato che ci sono pochi trevenant perché l'hanno diciamo depotenziato l'anturn ha fatto sproposito over cam anche al finale di torino l'abbiamo visto insieme a quag sire insomma a me diciamo quindi tenetelo d'occhio bastiodon ragazzi rimane sempre in di come nel vecchio tier list perché o lo allineati giusto oppure semplicemente un match perso un pokémon da buttarghe permette all'altro apponente di farmare non utilizzatelo non consigliato per quanto mi riguarda non buildatelo l'ikitung ragazzi uno dei top safe swap da tenere d'occhio sicuramente utilizzatelo e ragazzi mangiatevi tutto quello che potete per l'iper rimane in a più discutendo con i miei colleghi come sapete abbiamo deciso di tenerlo in a più anche se per me un po' era un po' a fatemi fammi sapere la tua nei commenti spam manetta tifone da fastidio non so se quag sire lo shotta secondo me si con pietrataglio ma comunque è uno spammer favoloso e un volante insieme a noctowl che da fastidio noctowl che insieme a lui rimane in a più anche se è una cover principalmente per trevenant che adesso non vediamo tanto però ciò non vuol dire che non sia un pokémon top dato che comunque non l'hanno toccato e fa davvero il suo machamp risale in a perché fa veramente danni selvaggi dato che ha la mossa in colpo stabata soprattutto se ombra mi pare che sia in top 15 attualmente in pv poke è un pokémon che va trattato con le pinze ma che può veramente fare tanto tanto male e qui arriviamo finalmente al nostro s più dopo averlo visto a torino dopo aver visto che cosa può fare questo safe swap io e shadow abbiamo concordato per metterlo in s più anche logan alla fine ce l'ha fatto mettere per quanto lui dicesse che per lui è in s come tutti gli altri pokémon perché in questa season per lui non c'è un vero re della storia però per noi lui gioca veramente tanto bene ricordiamolo purificato col ritorno ti permette di creare delle situazioni paradossali ti permette di pensare a come gestire il match e ti permette di uscire da situazioni veramente veramente brutte ed è per questo che abbiamo deciso di premiare questo pokémon facci sapere la tua nei commenti perché ovviamente sono super curioso umbrion rimane in tier a un altro safe swap utile facile da buildare per chi ha l'inizio e ovviamente che se la gioca bene piccola parentesi a torino l'ho visto giocare molto con nero pulsare invece di ripicca anche se il moveset consigliato per pv poke è ripicca perché nero pulsare non varie di tanti match up però fa più danno rispetto appunto a quest'ultima sandras di arola che con i nuovi buff raga è veramente esploso ha giravvita adesso finalmente una mossa terra utile e con ombra artigli può dare fastidio a molti altri pokémon e quindi insomma raga lui veramente da tenere d'occhio l'ho visto in molti video sul tubo dugong anche lui gli hanno messo finalmente giravvita quindi copre molto meglio la situazione perché finalmente ha due mosse utili oltre al vento gelato quindi giravvita invece di idropulsar che sinceramente caricava in un botto di tempo e non era molto utile quindi abbiamo deciso di metterli in a seppur attualmente preferiamo sandlash di arola come cambio intendo poi abbiamo un bel deoxys che sale in s dato che copre quasi tutto il meta praticamente lo stesso discorso di sablai utilizzato con fulmine invece di frana può coprire e dare veramente tanto fastidio all'interno di questo tipo di gaming poi abbiamo un bel ferroton che ho chiesto io dove lo mette dove lo mettiamo perché mi sembra che coprissi bene invece mi hanno smontato poverino il pokémon invece un glisco inaspettato in tier a più può giocare bene se guardate con quasi tutti i membri della linea s e a più e dunque dato che è un overcame interessante e essendo ombra con terremoto raga fa veramente il delirio dato che è stabbato se non sai cosa vuol dire stabbato recuperati questo video dei consigli va sicuramente avanzato tapu fini siglato in c perché c'è un altro c'è un altro ragazzi pokemon che è in tier s folletto acqua che ci ricordiamo benissimo dalla season one il signor azumarill è tornato per mangiarsi un po di pokemon soprattutto quello lì che vedete in s più che si tritura per benino poi abbiamo ragazzi toxapex che è un biker armato però dato che ci sono tanto pantano bomba attualmente abbiamo deciso di piazzare in a perché non si può difendere tanto ma per il resto raga un tanky selvaggio se avessi drondata sarebbe sicuramente più alto in posizione ma con acqua di sale non gestisce troppo bene la zona nantes di alola che è veramente un folletto interessante che può essere giocato sia con la mossa veloce ghiaccio che con la mossa veloce folletto e dunque può omologarsi alla zona del team che gli è più consona e qui raga arriva l'erba la sorpresa per me della tier list perché non pensavo fosse così in alto ma con un ragionamento che ci ha dato logan venusor è stato collocato in s perché se guardate a parte ovviamente i pokemon volante e anche con pelipro comunque se la gioca gioca bene con tutta la linea della a più e con tutta la linea della s ovviamente a parte regi steel quindi abbiamo deciso di farlo salire perché se lo meritava dato che tre avendo attualmente scese serve un'erba per coprire un po di zone ovviamente i suoi due caricate radica albero e fangobomba sono stabate quindi raga charizard invece raga scende un po soprattutto per il fatto che ha fatto di carta nel senso che si prende una caricata esplode e con tutti i pokemon della linea qui sopra deve sempre usare di shield per rimanere in game quindi non troppo top cradili che sale perché ha una core con le mosse roccia in cui fa veramente veramente male con frana e pietrataglio anche lui in più un pokemon di tipo erba anche lui e quindi può gestirsi il suo dato che ha una mossa veloce di tipo erba poi abbiamo citato un bel frostlass interessante che rimane in a dare fastidio soprattutto ora che non può beccarsi il palla ombra di travelant per esplodere subito un pj che è simile a un bastido comunque copre quello che deve coprire ma se non l'allineate bene non gioca quillfish che ci hanno chiesto dalla chat che rimane in d tranquillamente drift blim che con la nuova mossa di tipo fuoco debuff e quindi può essere interessante debuff al 100% ma non ha una copertura top perché come vedete ci sono tantissimi pokemon che si mangiano il volante altare che rimane un player solido se sei all'inizio soprattutto te lo consiglio per iniziare a capire come si gioca ma che attualmente con tutti questi mosse ghiaccia soprattutto warren che ritornerà preponderante stanfish che li usa frane quindi lo tira giù e tutti questi pokemon che se lo mangiano fa veramente fatica cresceli raga che come sapete è un cheat pokemon perché dovete scambiarlo con un allenatore con un cuore di amicizia con voi o con zero per diminirli i pl e portare lega mega e quindi se i ragazzi lo cercano di fare ovvio che è un bomb pokemon lo mettiamo in a più double la pecorella smarrita con un moveset veramente pauroso che vi consiglio di controllare che rimane in a più anche se è poco utilizzata spero di portarci un video duns per scan tank incredibile con rotolamento ragazzi li hanno potenziato la mossa veloce quindi da fastidio già li sento molto utilizzato attualmente non copre troppo quindi abbiamo lasciato in b toxico che che sale con pantano bomba che fa più male e i lotta ragazzi finalmente in questo meta si prenderanno la loro posizione carmory va a far compagnia a pigiotto per lo stesso motivo che dovete allinearlo in quella situazione obstacle un poverino non ha una grande copertura essendoci molti lotta e molti pokemon che se lo possono mangiare all'interno del meta attualmente l'abbiamo messo in b kofarigus che ci è stato chiesto dalla chat galvantula che sale in a e può gestirsi la situazione in vari modi dato che ci sono tutti questi acqua che non hanno una risposta effettiva anche se ricordatevi che è fatta di carta io lo consiglio come lead per dare veramente fastidio drappione stanfisk e scuntank scusatemi chiara giusto mettere e il signore abamas no questa è la tier list del nostro team attualmente fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sono aperte le polemiche e tutti i consigli